salva tutti i maestri volanti oggi siamo tolto su poco cianico al signo noi questa versione dovremo solo provare a prendere catturare solo po come di tipo volante che sono che si va a volare l'aria il cielo per la squadra volante normale come quattro zampe che vola io sono un maschio che vuoi diventare un maestro e poco volanti chi chiamerò mi chiamerò zephyro il nome del dio durante greco greco tu sarei sarai situs e eolo un altro di evento il sol di del vento greco sei il figlio di posidone il dio del vento stesso svegli ti signore devo andare a catturare tutti e poi come tipo volante sì mamma mamma nasce un'avventura ciao ciao signora la pioggia l'odore della vita normale professore cosa vuole a me da un po come spero che sia un poco di tipo volante si decora non vola lui ciccolita nemmeno le neanche tutto ma non è poco di tipo volante lo simbili devo cominciare milio il tipo volante ti chiamerò non vola vola aspetta non vola sto poco come andamene via si che porno c'è da loro che provano sfidata è una signora pazza che sfighe io e il mio non vola ti combatto solo perchè devo farlo se no ti lascia voglio dei maestrosi pogum come dei pg spiro non voglio un pevo non so non sarebbe bello perchè vola me ne vado grazie per la misteria basta fuk parlami così posso dare un po' che becca tirami mi pochino di tipo volante noi della squad noi della air squad vogliamo solo tipi volanti pokemon che sto ho chiesto qua perchè mi chiami dove andarci per me tipo volate a mirare la bellezza di poco che sono a volare di poco solto nel cieli dei leggendari che sono a volare ho riuscito un po' come ho fatto zampe lascia mi andare e chi sei tu che mi è combattere ok chi sfida ma ti dico per adesso tu sei più forte di me io non ho scoperto non ho scoperto ufficiale c'ho solo un po' come che si mi sono ragazzi si ho fatto apposta a dare totale al mio rivale non dite che è un studo che sa perché so che totale impara ice fan che è super efficace c'è tipo i tipi volanti di che l'ho dato apposta nello stesso due famiglie questa sfida difficile oh un pc ho mai esteso scuola del cieli portandolta un po' scotterati se potevo veniva con tutte interviene squadra con tutte le braccia aperte cosa cosa dice mi vuole restare prezzate delle palle si è olio quel che mi ha mi ha fatto cadere la carta di identità sua di quelli so come si chiama ha un nome strano ragazzi per poco signor ragazzi per poco posso andarmene via ci facciamo da catturare i pochi che soltano i cieli e poi come sono bellissimi dai fermo signora educatore mio pochino chieto schifo la meraviglia la meraviglia è uscito è meraviglia un po' so che cieli pokeball cattura molto poco pg ti chiamerò aria come lo più un po' come tipo volante serie aria aria con doppia perché si non puoi avere oggetti tu tu miserabile oh mio dio un po' un altro tipo volante questo è il sogno devo prenderlo sicuramente un po' un po' un po' un po' un po' un po' ti chiamerò saggia come un'altra poco informato soggio ma si resta già cosa mi disturba un otto spiro no pg sbietto o pongo e sul nome ori o non ho fatto tutto scappare oh mio dio è un po come di tipo volante o ti rispetto con tanto mio cuore aveva un tipo volante è una cosa perfetta il mio compito di sta regione e di essere il migliore il perfetto e migliora allenatori tipo volante che ci sia storia no falconer deve abbassarsi lui e sui due uccellacci di tipo volante dopo fatti dei miei uccelli non so fare niente non capisce come lo che mi due amatissimi poco sono sotto un po siete troppo un livello non decente non dei migliori possiamo ucciderlo anche difficili che difficoltà mi vero tre per tutte e due ok mi dio un bruco sono tutti i buchi dopo che sono parano volare dei bruchi bruchi dei bruchi oh tu il treno nella squadra con molto piacere ti chiederò bruco non ti chiamerò bruco ti chiamerò bruco ragazzi intanto ho fatto questo solito ma poi con di carta qui è poco belli quando si vogliono in modo che vuole portati è un volante no del team è nomi del team ero squad ma sarebbe solo per squadra ma stuvate niente a pesciutare in aria che butto trovare un po con sotto di sotto di velo 5 ok lì alla 5 per aria sono da te ma lì alla bruco così dentro il livello anche 5 spin racco un suo stesso tipo un crito primo colpo perfetto una bella evoluzione ah sì livello 7 evoluzione a fondere a casa da mamma grande la cattura mi è possibile come tipo volante che non fosse lo spiro ma sembrava ma disturbate sono ritornare a casa cosa non sta che devi tanto solamente che si veda come le scarpe a me che non si è più ma anche questi mi servono di più le scarpe da corse ciao ci vedremo quando forse molto batto il campione di giotto ciao 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 ciao